Salve a tutti ragazzi, qui TTD e benvenuti in questo nuovo video di Dokkan Battle Siamo sull'account global perché è uscita una nuova summon, un nuovo Dokkan Festival Andiamo subito a vederlo qua Eccolo qua, Dokkan Festival Supreme Power Assemble E abbiamo la possibilità di trovare SSR Boo Kid, SSR Super Gogeta e il leggendario Super Saiyan Broly, detto anche Broccoli Allora ragazzi, qua c'è la possibilità di fare un multi summon da 30 stone e poi possiamo farne un altro da 50 Visto che quello di Gotenks non mi piace il personaggio in sé per il mio account Direi di fare un 30 e un 50 di quello con Gogeta Ok ragazzi, partiamo col primo summon, speriamo Sì, andiamo Ragazzi, ovviamente non c'è la possibilità al 100% di beccare un SSR Quindi Uhlala Uh Uh Ok C'erano tante capsule Goku Per favore Carichiamo tutti la Kamamea Aiutatemi Andiamo Uh Ragazzi Le possibilità Le possibilità Le possibilità Trasformati anche in Super Saiyan 3 Ah, niente in Super Saiyan 3 Forse un SSR ci può anche essere Ok, Gohan Ciao Vabbè Un fisico Sì Ci può stare Andiamo avanti Cos'è Cos'è Cos'è? Oddio, è quel Boo Sì, è il Boo cattivo Quando esce dal corpo del Del Fat Boo Ok Oh Kid Boo Ragazzi Abbiamo beccato Kid Boo Origin of Despair Boo Kid Wow Carino Leader skill HP Più 50% Vabbè Non è il massimo Come Come skill Da leader Ma La accettiamo Andiamo avanti Piccolo Ciao piccolo Vabbè Sì, boh Fa un po' schifo È un SR Normalissima Ok Barter Ciao Inutile Raro del cazzo Attenzione Wish Wish Fisico Ok Vabbè Sì C'ho già Quello Strength E a breve Lo possiamo anche Li possiamo fare anche L'Awaken Per farlo diventare UR Quindi Non ce ne frega Che cacchio sei Ah Ancora tu Majin Bu Con piccolo Ok Ancora Wish E che palle però Che sfiga ragazzi Veramente Andiamo avanti Yamcha Vabbè Ciao Yamcha Sempre inutile Come il solito Attenzione Oh no Che sfiga ragazzi Abbiamo beccato Lo cazzo Ma vaffanculo Doh Doh Come battle Vabbè Prossimo summon Ragazzi Aiutatemi Anche voi Gogeta Dobbiamo trovare Gogeta Uh Quante capsule Per favore Per favore Goku Ce la possiamo fare Ragazzi Possiamo beccare Gogeta Proviamoci Ok Trasformati In super Wow La sfiga Cioè qua Becchiamo Bye guys Attenzione A bye guys Può dire Un ssr Vabbè Gohan kid Ciao ciao Piccolo Ciao Sei inutile Come al solito Piccolo Videl Madonna però Che sfiga Se ci becchiamo Solo delle R È una sfiga Totale ragazzi Questo è un Goku Normale No Ah Wow Ok Super Saiyan God Goku Carino Però io Voglio Gogeta Non me ne frega Un cazzo Di Super Saiyan God Goku Saiyan Savior Of Legend Vabbè Non Non ci interessa Poi è un Int Int Tai Patak Più 50% Non ne ho nessuno D'int Non è il massimo Per ora Questo Questa carta Vabbè Ciao piccolo Sempre Al solito Inutile Ciao Krili Per favore Per favore Vieni fuori Vieni fuori Gogeta Gogeta Vieni Mi sa che ne mancano Ancora due Credo Ragazzi Speriamo Yamcha Levati dalle valle Oh No È Gohan No Ultimate Gohan No Ragazzi Che palle Vabbè È carino Carino Perché un physique Mi mancava E mi può aiutare Anche molto Nell'evento Di Di cooler Ragazzi Però Vabbè Non fa Non fa schifo Questo Gohan Almeno Non fa schifo Va bene Andiamo avanti Ciao Gohan Inutile Una rara Del cazzo Vabbè E Ultimo Un altro Gohan GT Va bene Beh Almeno abbiamo beccato Due SSR E una Utile Una utile Quel Goku Può rimanere lì Non Non ci serve a niente Fondamentalmente Andiamo a vedere Gohan Ragazzi Allora Vediamo anche la passiva La passiva Perfect Prowess Ok Attack Più 70% When HP 50% Or above Vabbè Non è proprio Una passiva Bellissima Ma Non è neanche Schifosissima Ragazzi Non fa Non fa del tutto Cagare Se Se veniamo un po' Rectati Può essere utile Ma Di sicuro Non diventerà Nulla di che Va bene ragazzi Per questo Video Su Dokkan Battle Abbiamo Usato Moltissime Stone Per summonare Gogeta Non ce l'abbiamo fatta Abbiamo beccato comunque Kid Buu E Ragazzi Abbiamo beccato anche Gohan E Goku Super Saiyan God Non sono quelle che volevo Però Possono comunque essere utili Nel team Detto questo Comunque ragazzi Io vi chiedo solamente Di lasciare un mi piace Commentare E iscrivervi E noi Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.